In Fraterna Letizia, confessando l'amore del Signore, chiediamo di poter rientrare nella nostra chiesa. Preghiamo perché il Signore ci assista e ci protegga. Siamo qui riuniti come fratelli di fede per riaprire questa chiesa dopo il lungo periodo di chiusura dovuto al terremoto di 8 anni fa. Oggi è una giornata fondamentale nella storia del nostro paese, della nostra comunità. Siamo qui per la celebrazione e la riapertura della nostra chiesa parrocchiale che, come tutto il nostro paese, tanti suoi edifici e la stessa gente, ha sofferto per 8 anni e mezzo. Nessuno dimentica il 20 maggio 2012 e rientrare in chiesa in qualche modo ci fa ripercorrere in pochi istanti tutta questa storia, una storia difficile, fatta di un lavoro continuo alla ricerca delle soluzioni, dei fondi per cercare nel più breve tempo possibile di restituire al nostro paese i suoi luoghi di identità, come dico sempre in questi giorni, il suo cuore. Ebbene oggi è una di quelle giornate in cui veramente il cuore di moglie ritorna a battere.